Nella conversazione con il notaio Giorgia Manzini ci occupiamo oggi di circolazione di beni strumentali e in particolare dell'ufficio del professionista, come il suo in questo caso o di tanti altri professionisti. Qual è per un professionista la mossa più vantaggiosa per l'utilizzo degli immobili utilizzati come studio, dottoressa Manzini? Gli immobili strumentali sono tali per destinazione o per natura? Per destinazione sono quelli che vengono destinati all'esercizio della professione come l'ufficio per un professionista che ha una categoria catastale A10 e una categoria caratteristica che deve corrispondere naturalmente anche alla situazione urbanistica dell'immobile. Poi ci sono immobili strumentali per natura che non possono essere destinati ad altro uso se non con radicale trasformazione. Quindi il professionista come si deve comportare? Dell'ufficio, dei locali ad uso ufficio ne ha bisogno per esercitare la professione. Qual è la mossa più conveniente? Ultimamente la mossa più conveniente è tornata ad essere quella del leasing, della locazione finanziaria con successivo riscatto dell'immobile. Il professionista può godere della deducibilità dei canoni del leasing nei limiti di legge e anche l'IVA è detraibile. Inoltre effettuato il riscatto dopo questo contratto di durata con scopo di finanziamento che è il leasing, la locazione finanziaria, l'immobile diventa di proprietà del professionista e decorsi 5 anni. Se lo rivende l'eventuale plusvalenza, di questi tempi parlare di plusvalenza è sempre molto delicato, però quando si verifica un guadagno rispetto al prezzo di acquisto, questa plusvalenza è detassata dopo i 5 anni, quindi sicuramente è una fattispecie vantaggiosa. La formula del leasing può essere utilizzata anche per acquistare una casa? Di leasing ne abbiamo sentito parlare in relazione alle auto, ai capannoni, agli uffici appunto, però la legge di stabilità del 2016 ha introdotto in Italia il leasing immobiliare abitativo, cioè questa possibilità per i privati di acquistare un'abitazione da di birra propria abitazione principale attraverso lo strumento del leasing. Il leasing che cos'è sostanzialmente? È un collegamento contrattuale fra due fasi, una prima fase di locazione finanziaria, in cui l'immobile viene acquistato dalla società di leasing, da una banca, che lo concede all'utilizzatore per la durata prevista dal contratto, l'utilizzatore paga un canone, alla scadenza lo può restituire all'impresa di leasing oppure può riscattare l'immobile, cioè acquistarlo. Ecco, questo strumento è stato previsto anche in relazione agli immobili ad uso abitativo. È stata una manovra per agevolare l'accesso dei giovani all'acquisto della prima casa perché le agevolazioni fiscali massime sono previste per i soggetti sotto i 35 anni. Comunque rimane un'operazione conveniente anche per i soggetti sopra i 35 anni. Certamente la detrazione del 19% sia dei canoni di leasing nei limiti di 8.000 euro che è del prezzo di riscatto, sempre al 19% nei limiti di 20.000 euro, è massima per gli under 35 anni e si dimezza per gli altri soggetti. Statisticamente quanti ne sono stati stipulati di questi contratti? Non ha preso una larghissima diffusione proprio perché è uno strumento nuovo, abbiamo cercato di comunicarlo come notariato insieme anche ad Astilea, l'associazione italiana dei leasing. Però, indubbiamente, a conti fatti pare che sia più conveniente di un mutuo. I miei clienti, nel mio caso specifico, devo dire che preferiscono il mutuo perché è uno strumento più conosciuto, più rassicurante. Ma sicuramente noi lo consigliamo, almeno di informarsi, non possiamo certamente entrare nel merito, perché questa novità alla lunga comporta un notevole risparmio. È più conveniente acquistare l'ufficio per lo studio del professionista da una società o da un privato? Se si acquista l'ufficio, questo immobile censito in catastro come A10, da un'impresa costruttrice, l'IVA è deducibile e quindi per il professionista è una posta neutra. E questo è sicuramente un vantaggio. Non vale per tutti perché, per esempio, per i medici questo principio non vale, in quanto l'IVA non è mai deducibile, perché le operazioni che loro eseguono sono esenti IVA. In ogni caso, conviene fiscalmente, forse, acquistare l'immobile da un privato, perché dal 2014 la tassazione comporta appunto un'aliquota del 9% sul corrispettivo, le imposte ipotecarie e catastali fisse nella misura di 50 euro l'una, mentre negli altri casi le imposte ipotecarie e catastali su questi beni strumentali sono proporzionali e sono del 4%. Il problema fiscale, invece, è tutto della società che vende questo ufficio, perché dipende come è stato classificato nel bilancio della società. La classificazione può essere come bene strumentale, in cui si esercita l'attività d'impresa, bene merce, oppure bene patrimonio a fini di investimento. Queste classificazioni possono essere variabili, con vari criteri nel bilancio si può cambiare la classificazione, ma in ogni caso, se la società realizza una plusvalenza, questa è soggetta a tassazione. Molti professionisti utilizzano un immobile ad uso ufficio in locazione. Perché succede questo? Conviene? Il canone di locazione per un professionista è detraibile dai redditi. Conviene nella misura in cui ci si è finalmente resi conto, dopo il boom, prima della crisi del 2008, che la proprietà di una casa non finisce solo nel pagamento di un mutuo o nel pagamento del prezzo. La proprietà di un immobile, anche di un immobile strumentale, costa. E quindi ci sono costi accessori e continui che devono essere valutati. Nella locazione, naturalmente, il problema è del proprietario, quindi può essere un'ipotesi vantaggiosa. Bisogna sempre tenere conto appunto della tassazione della proprietà e di tutti i costi accessori, la manutenzione ordinaria, straordinaria. Dunque, a volte, la scelta ricade proprio sul restare in affitto con un contratto di locazione. Ci sono prospettive di riforma per agevolare la circolazione dei beni strumentali? Per i beni strumentali non si è fatto molto. Nei precedenti governi, purtroppo, non è stato agevolato l'investimento in beni che non fossero abitativi. Per l'accesso all'abitazione, alla prima casa, si è fatto moltissimo. Sono state ridotte le aliquote, sono stati previsti nuovi strumenti, anche di accesso al credito. È stata agevolata la terza età. Insomma, abbiamo avuto interventi veramente con la volontà di cambiare le cose, di diffondere la proprietà della prima casa che in Italia è diffusa per l'80% della popolazione. Però, nonostante oggi i tassi fissi siano i più bassi mai visti, cioè si riesce a fissare un tasso di media dell'1,5% per un mutuo, quindi siamo ancora in una fase estremamente favorevole e i prezzi sono bassi, non c'è la corsa all'acquisto. Perché ad oggi in Italia la casa, l'immobile, è un asset illiquido, e cioè non è facile renderlo liquido. Non è assolutamente breve riuscire a disinvestire e monetizzare l'acquisto dell'immobile. In Italia sono in vendita 1.400.000 abitazioni su una popolazione di 66 milioni di persone. Negli Stati Uniti sono in vendita 1.500.000 abitazioni su quasi 400 milioni di abitanti. E quindi questa lentezza nella circolazione degli immobili purtroppo rallenta il mercato. Per gli immobili strumentali, questi immobili ad uso ufficio, i capannoni, i negozi, la situazione in questi anni è stata, a mio parere, drammatica. Se sull'abitativo abbiamo visto una certa crescita, perché comunque abitare bisogna, la casa è un bene primario e in qualche modo le case circolano. Ci sono state tutte le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno funzionato moltissimo. Ora vedremo che fine faranno queste detrazioni fiscali, i bonus casa e gli ecobonus. Sugli immobili strumentali, gli uffici, gli immobili commerciali, invece la tassazione è rimasta alta, la tassazione della plusvalenza pure e non si è fatto nulla. Quindi bisognerebbe focalizzarsi su questo settore che ha un grande indotto dalle imprese costruttrici ai professionisti e alle aziende. Grazie.